Salve a tutti, siamo qui con Stefano Sensoli, presidente dell'associazione Pane e Tulipani. Raccontaci un po' di questa associazione Stefano. Allora, Pane e Tulipani è una cooperativa sociale, è nata praticamente da un anno e mezzo, quasi due anni, per lavorare su questo bene confiscato di Cupra Montana. È stata creata praticamente da un'altra cooperativa sociale che si chiama ViviCare, la quale gestisce la struttura che vediamo qui avanti e che è una comunità residenziale di tipo psicologico, per persone con disagio psicologico. La Pane e Tulipani è nata per gestire e prendere parte ai lavori del terreno che si trova intorno alla comunità. L'idea è quella di utilizzare questo terreno per fare delle piccole attività agricole di tipo riabilitativo e sociale, cioè di coinvolgere sia gli ospiti della struttura o anche altre persone che vengono mandate dai servizi sociali e hanno qualche tipo di disagio psicologico o sociale, nelle attività di orticoltura soprattutto, oppure anche nella raccolta delle olive e cose di questo genere. La sua valenza soprattutto è quella di fare un'attività di tipo riabilitativo e sociale. Raccontaci un po' la storia di questa struttura, com'è nata. Allora, questa struttura nasce da un progetto che segue alla confisca di un bene di tre ettari qui nel comune di Cupramontana, nel territorio di Cupramontana. Il bene venne sequestrato nel 1995 e confiscato definitivamente, poi assegnato al comune di Cupramontana nel 2004 circa, 2005. A quel punto il comune ha cercato di reperire dei fondi e d'accordo con la cooperativa Vivi Cardigliesi hanno concepito il progetto di costruire qui una comunità residenziale, appunto come dicevamo, per utenti con disagio psicologico, in accordo chiaramente con i servizi del territorio, quindi il Dipartimento Salute Mentale e i servizi sociali. La struttura è stata finanziata per metà dalla stessa cooperativa Vivi Card, quindi privato sociale, per metà da fondi ministeriali e con la cifra che è stata messa insieme è stata riedificata completamente questa struttura, mentre è stata abbattuta quella che c'era precedentemente e alla fine del 2013 la struttura ha cominciato a funzionare. In un periodo di difficoltà e di crisi sicuramente è un buon esempio. Non mancano moltissime difficoltà nel gestirla, nell'andare avanti, di tipo economico ed altro, però insomma pensiamo di essere sulla strada giusta. In questo lavoro ci ha supportato e ci sta affiancando l'Associazione Libera fondata da Don Luigi Sciotti, che comunque in termini di supporto, in termini di coinvolgimento anche noi in attività di tipo culturale riguardanti appunto il tema della legalità, dei diritti civili e dell'impegno sociale attivo ci sta dando un grande contributo e ci aiuta anche a farci conoscere e quindi a farci apprezzare e sostenere dalla cittadinanza, perché questa sicuramente è una cosa importante. Tutte le cose riescono a esistere e andare avanti innanzitutto se hanno un senso, cioè se sono utili. Secondariamente, ma in realtà in maniera molto importante, se la cittadinanza le sostiene, se non vengono lasciate sole. Raccontaci un po' della banda della Magliana, che è stato requisito questo bene. Allora, la banda della Magliana è stata soprattutto un'organizzazione criminale che ha prosperato, se così si può dire, ma purtroppo prosperava nel vero senso della parola, in particolare alla fine degli anni 70, per tutti gli anni 80 e fino a metà degli anni 90, è stato proprio l'apice della sua attività. Si trattava di diverse bande di quartiere che si sono messe insieme, le chiamavano batterie, per in qualche modo mettere insieme i frutti dei loro illeciti e si occupavano soprattutto di traffico di stupefacenti. Gestivano il traffico di stupefacenti su tutta la capitale, ricevendo gli stupefacenti dalla mafia palermitana e dalla camorra campana. Quindi loro avevano dei contatti specifici e privilegiati con queste due organizzazioni. Poi si occupavano di sequesti, di estorsioni, di usura, di rapine e avevano molti rapporti sia con i servizi segreti italiani deviati che con, diciamo, si ritiene esponenti politici, nonché con il Vaticano. Basti pensare che uno degli esponenti più importanti, comunque di spicco, della banda della Magliana è stato sepolto in una importante chiesa romana, Santa Pollinare, dove sono sepolti degli insigni cardinali e altre personalità del Vaticano. Questo perché loro avevano relazioni e rapporti, erano molto generosi con chi sapevano che era opportuno avere come amico. Qualcuno ritiene che avessero un ruolo attivo anche nella famosa questione del sequestro di Emanuele Orlandi, che è la figlia di un messo Vaticano che poi è scomparsa in circostanze abbastanza misteriose. C'è chi dice che avessero un ruolo attivo su questo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.